ciao amici come state sono laura cepeda dal messico benvenuti a mia casa benvenuti al mio canale in italiano laura cepeda italia grazie di cuore a tutti perché questo canale sta crescendo molto velocemente siamo già più di 4000 iscritti iscriviti per favore se non sei ancora iscritto grazie tanti e oggi andiamo a fare questo bellissimo cardigan all uncinetto che è molto facile per quello tu bisogni di per una taglia piccola tu bisogni di 200 grammi di cotone 200 grammi di questa lana e un uncinetto dal numero 12 mm o 15 mm e se non tu puoi utilizzare il tuo dito indice come se fosse un uncinetto iniziamo iniziamo facendo 32 catenelle tu devi prendere un filo di questa lana e un filo di questo cotone e dobbiamo tessere insieme così ricordi che tu puoi fare le catenelle con il tuo indice come se fosse un uncinetto per una taglia media tu bisogni di 34 catenelle e per una taglia grande tu bisogni di di 36 catenelle ma adesso per taglia piccola andiamo a fare 32 catenelle facciamo una catena di più torniamo alla seconda catena sempre prendendo il buco di sotto e facciamo un punto basso così e così facciamo 32 punti bassi veri come lo faccio è molto facile con il dito è una nuova tecnica che io sempre o e che mi ha piaciuto tantissimo e io lo faccio da quando io era una bambina una ragazza piccola alla fine di questo giro giriamo il tessuto e facciamo di nuovo 32 punti basi vedi che non devi salere salire con una catena e nulla di questi cosi solo devi girare il tessuto e fare di nuovo 32 punti bassi e così andiamo a fare giro 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 di punti bassi ad avere 10 giri ricorda che ogni buco è un giro ogni buco è un giro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 giri adesso andiamo a fare un giro un giro di aumento cioè due punti bassi in ogni punto vedi come lo faccio e alla fine dobbiamo avere 64 punti bassi alla fine di questo giro giriamo il tessuto e andiamo a fare un punto basso in ogni punto cioè 64 punti bassi facciamo e così dobbiamo fare 12 giri ricordate che prima abbiamo fatto la parte del collo e adesso andiamo a fare la parte delle braccia e della schiena e del fronte così vedi come lo faccio io qui per esempio ho finito i 12 giri qui per esempio io devo finire questo giro alla fine faccio un nodo leggero così per non perdere i punti e adesso vado a dividere questo tessuto in due parti uguali per dividere a metà piego a metà il tessuto in questo modo e a metà esattamente metto un penarello vedi come lo faccio questa divisione serve a separare lo scalfo del cardigan metiamo qui il penarello e questa sarà la nostra manica facciamo lo stesso dell'altro lato così e per esempio si tu vedi che il tuo braccio è più grande tu puoi mettere il penarello un buco avanti così vedi come lo faccio e poi per esempio in questa parte dopo di fare il giro d'aumento facciamo sei giri per esempio e dopo facciamo di nuovo un altro aumento per una misura per una taglia media o anche per una taglia grande è molto importante che andate a testare il vostro cardigan per sapere dove aumentare ma ti consiglio che solo aumentare una o due giri di aumento perché e l'altra parte farà farlo normale perché se non è molto grande e anche qui nella parte della manica se tu hai il braccio molto molto grande molto grosso tu puoi mettere qui catenelle adesso ti vado a dire come e adesso dobbiamo fare un giro d'aumento dopo un po' di fare la divisione per le maniche per fare una forma di la lettera A al nostro cardigan così in questo giro d'aumento ad arrivare qui al penarello dobbiamo fare uno uno due cioè un punto basso in un punto dopo un punto basso nell'altro punto e poi due punti basi insieme nel l'altro punto così ad arrivare qui al penarello adesso contiamo quanti punti ci sono qui per mettere gli stessi punti sul retro sull'altro lato in questo punto del penarello faccio un punto normale un punto basso normale e facciamo quattro catenelle perché questo è una misura piccola e continuiamo continuiamo a fare l'incremento il giro d'aumento qui ora è stato fare un punto singolare e poi un punto doppio e così continuiamo tutto il giro uno uno due uno uno due ad arrivare al seguente penarello e quando arriviamo all'altro penarello dobbiamo fare le quattro catenelle per la maniche per la manica e poi continuiamo con il giro d'aumento uno uno due uno uno due e adesso quando abbiamo finito questo giro dobbiamo fare un giro normale cioè un punto basso in ogni punto e così giro tra giro tra giro ad avere 20 giri o 22 giri per esempio lo che io vado a fare o la misura che tu vuoi e così abbiamo finito quasi finito questo bellissimo cardigan che vedi è molto facile da fare è molto elegante e qui non dobbiamo fare un altro giro d'aumento così va bene per questa per una taglia piccola anche per una taglia grande o media così va bene l'aumento solo lo dobbiamo fare nella parte superiore ma dopo delle maniche non dobbiamo tessere dobbiamo fare già tutto il punto normale singolare qui possiamo vedere il collo come è stato le maniche la schiena vedi che bellissimo si vede questo cardigan e adesso chiudiamo con un punto scorrevole tagliamo con le forbici alla fine nascondiamo questo filo e adesso solo con il cotone con due fili di cotone dobbiamo fare un giro finale di punto basso vedi come lo faccio e così abbiamo finito questo bellissimo cardigan e ora ti insegnerò a fare un bottone per decorarlo al uncinetto molto molto facile con il filato di cotone e anche un uncinetto dal numero 6 mm faremo 4 catenelle chiudiamo in cerchio con un punto scorrevole e ricordi che quando chiudiamo in cerchio dobbiamo prendere anche questa coda iniziale così e adesso dentro del cerchio facciamo punti basi i punti che ci stanno all'interno del cerchio dovete fare tutti quelli che entrano nel cerchio così e quando abbiamo finito questo primo giro continuiamo con il punto basso qui sopra di questi punti basi vedi come lo faccio è molto facile e dobbiamo salire in forma di lumaca così in questa seconda parte dei punti basi in questa seconda parte dei punti basi dobbiamo tirare un po' il filo per rialzarli vedi come lo faccio e così dobbiamo fare ad avere la misura che noi vogliamo così è molto facile io vado a fare tre giri qui io ho il bottone vedi che bellissimo si vede ricorda che il punto dovrebbe essere lento non dovremmo stringere e così deve lucire deve lucire il nostro bottone vedi che bellissimo possono usarlo così o anche possono usarlo dall'altro lato o possono cucire anche con filo e ago così io lo metterò così sul mio cardigan e così amici abbiamo finito questo bellissimo cardigan tu lo puoi fare nel colore che tu vuoi io per esempio vedi qui come ho messo il bottone anche tu puoi fare per esempio due bottoni anche e anche possono farlo con maniche lunghe o tre quarti solo dovrebbero fare lo stesso lo stesso punto senza aumentare ma a forma di lumaca ad avere la lunghezza che tu vuoi e questo cardigan può essere trasformato anche in un capotto vedi che è molto facile da farlo con le dita è molto veloce e voglio condividere che questo modello è stato uno dei miei primi disegni io sono una disegnatora di moda e questo è stato uno dei miei primi disegni che ho fatto e che alla gente le ha piaciuto tantissimo e ho insegnato a realizzare questo cardigan su molti lati in Messico, gli Stati Uniti, Spagna, Germania grazie tanti per favore iscriviti è molto importante per me ci vediamo la prossima settimana per favore dammi like inviami tutti i tuoi commenti condividi con i tuoi amici questo video e ricorda se lo puoi sognare lo puoi fare un bacione ciao 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 ciao